Io ti sento benissimo, buonasera a tutti, io ti sento benissimo, Francesco, Carlo, e spero che anche tu ti sta seguendo sul profilo della Passione per un Delizio, che adesso ti spiego cos'è la Passione per un Delizio, un festival che si occupa di giallo, di noir, di misteri, di style, tutte cose ciniche, ma attraverso cui si legge la realtà. Per cui siccome tu, di lettura della realtà, ma anche di cose vere, ne hai un po' da dire, ho pensato che mi sarebbe sempre più evitato, perché sono molto contento di dire qualcosa. Ora, sei all'aperto, per cui io sento bambini, uccettini, persone che mi hanno saluto, dove sei e come stai? E allora sono sul Lungotevere, a Roma, quindi, al Bibliobar, un meraviglioso bar dove sto facendo l'aperitivo, e quindi sì, ecco, adesso senti anche dei cani, infatti. Sì. Però sto molto bene, sono molto contento di essere vostro ospite, ho avuto una bellissima presentazione del festival da parte di Minimum Facts, quindi insomma non vedevo l'ora di fare la vostra conoscenza. Sono molto contenta. Allora, io ti ho incontrato con questo libro, il libro è Barre, lo faccio vedere, Minimum Facts è la cattedrice che l'ha pubblicato, e ho pensato che nel panorama generale di storie che sto leggendo, quello che mi interessava di questo libro era capire quali parole e in che modo tu avevi deciso di raccontare la tua storia, il tuo viaggio. E devo dirti che la lettura è stata appassionante, emotiva, coinvolgente, importante, di quello che tu scrivi, tra le cose che tu scrivi, ce ne sono alcune che vale la pena di raccontare, che forse non tutti sappiamo. Parto dal tema. Allora, innanzitutto, tu lavori, oltre al tuo lavoro di hacker, tu lavori anche in capire con i ragazzi, ed è di questo che hai voluto raccontare. Ma guarda, ho voluto raccontare questa storia perché è un mondo, prima di tutto, un ambiente di cui si parla poco, è una realtà che fa parte dei nostri territori, che fa parte delle nostre città, però della quale secondo me si parla ancora troppo poco, se ne parla in maniera molto spesso molto tecnica, ecco, nel momento in cui sono... Paola, eccolo qui. Di quelli che mi aspettano, mi senti? Adesso si sei tornato, sei sparito per un attimo, adesso sei tornato. Ok, se sparisco di nuovo fammi un cenno. Ti stavo dicendo, facendo delle ricerche, insomma, prima di cominciare a scrivere il libro, mi sono reso conto che i libri che parlano di carcere minorile in Italia sono molto pochi. E molto spesso sono dei libri tecnici, sono dei saggi, sono dei lavori scritti da professionisti per professionisti. Ecco, queste sono esattamente le cose che io non volevo fare. Volevo scrivere un libro dedicato al 99%, volevo scrivere un libro che fosse letto da chi magari in carcere non c'è mai entrato e non c'entrerà mai. Un qualcosa che, come dire, rompesse in qualche modo queste mura, queste barriere. Un libro in grado di raccontare questa realtà anche a chi non la vive e non la conosce. Perché abbiamo anche le ambulanze che passano per prenderla. Qui tutti abbiamo, siamo sempre, siamo un po' liberi, un po' più liberi, ma non del tutto. Perché fa abbastanza impressione vederti seduto a bere al tavolino di un bar, anche se all'aperto. Però, insomma, cominciamo a tornare all'aperto anche noi. Noi sì, questi ragazzini invece sono dietro le barre. E tu, cosa vai a fare in questo carcere? Io in carcere faccio dei laboratori di rap, però in realtà con rap ci ficchi dentro un po' di tutto, no? Perché alla fine il rap è uno strumento tramite il quale, diciamo, si possono inserire vari tipi e tantissimi tipi di contenuti. Per esempio con rap io faccio entrare anche la poesia, ma fondamentalmente il mio obiettivo è stimolare la capacità e la voglia di esprimersi da parte dei ragazzi. Il rap, ti ripeto, è soltanto uno strumento, però è quello più semplice, è quello più vicino a loro ed è la chiave che mi aiuta a scoprire, a esplorare, a capire molto oltre la forma musicale o la forma espressiva di riferimento. Senti, cos'hai capito, attraverso questa esperienza, cos'hai capito di loro, di questo gruppo eterogeneo, però all'interno del quale tu hai cercato di delineare alcune caratteristiche precise all'infanzo di questo gruppo, di questo gruppo? Guarda, prima di tutto ho capito che sono ragazzi, ragazzi, non diavoli, non angeli, ragazzi, certo ragazzacci, ragazzi di strada, però che sono esseri umani e sono adolescenti con tutti i dubbi degli adolescenti, tutte le debolezze anche degli adolescenti, anzi, a volte anche di più. E poi sai, una delle realtà forse più amare, ma più importanti, che ho scoperto è che nel carcere minorile non ci vanno i più colpevoli tra i colpevoli, ci vanno gli ultimi tra i colpevoli. Perché ti dico questa cosa? Perché è molto difficile, giustamente, andare in carcere da minorenne, ci sono molte misure alternative alla detenzione per i minorenni, c'è l'affidamento alla famiglia, gli arresti domiciliari, l'affidamento in prova, la comunità, la messa alla prova, ci sono tanti modi per non andare in carcere da minorenne. Quindi da questo che cosa deriva? Chi ci va in carcere? Chi non ha una famiglia, chi non ha una casa, chi non ha i soldi per pagarsi un buon avvocato, chi non ha magari nemmeno i mezzi, come dire, lessicali per esprimersi o i mezzi culturali per capire che cosa gli sta succedendo. Sai, il carcere minorile è uno dei luoghi dove, secondo me, si vede di più il classismo della nostra società. Ti ripeto, non ci sono i più colpevoli, ma gli ultimi tra i colpevoli. Tu questo lo dici bene, lo racconti anche non soprattutto dichiarandolo, ma attraverso le storie che proponi. Ti ricordiamolo, sono storie vere, ma non esistono, perché è narrativa, come tu offri al pubblico dei lettori, ed è il modo di lavorare giusto con le storie delle persone, delle creature umane. Io l'ho molto apprezzata a questa cosa. Quanti sono i ragazzini minori nelle carceri in Italia, più o meno? Guarda, in realtà non sono tanti. Ovviamente è un numero che cambia, ma un numero che non arriva mai a 500. Sono intorno a 400, un po' più, un po' meno. Quindi in tutta Italia? Sì, su 17 IPM intorno a 400, chiaramente non ti posso dare un numero preciso, appunto perché ci sono molte misure alternative alla detenzione, quindi quelli che ci vanno a finire insomma sono quelli di cui ti parlavo prima, sono quelle tipologie di ragazzi. Ma la cosa che spesso mi ha impressionato di più è vedere come anche i loro coetanei, No, anche gli altri adolescenti. A me capita anche per esempio di andare molto spesso a delle scuole, a parlare con degli studenti e studentesse di scuole superiori, ad esempio. E quando io dico ragazzi, ragazze, ma voi lo sapete che dall'altro lato del muro, nella vostra stessa città, c'è un carcere minorile con detenuti e detenute della vostra stessa età, ragazzi e ragazze, insomma vostri coetanei, secondo voi che cosa pensano? Secondo voi che cosa fanno? Secondo voi come passano le loro giornate? Vedo degli sguardi stupiti, cioè è un qualcosa che manca dal nostro pensiero e forse è ancora più grande che manchi dal pensiero degli adulti, molto spesso. Visto che gli adulti teoricamente dovremmo essere più responsabili. Senti, tu hai parlato di scuola, quindi vuol dire che vai anche nelle scuole e lavori anche con le scuole. Non credi che si debba proporre un collegamento scuola-cattere, scuola-communità? Questi devono essere vasi comunitanti per capire cosa succede, come funziona, che cosa vuol dire, cioè per dare anche modo di comprendere le cose, non soltanto di infilarle come se fosse un'istruzione impartita dall'altro, ma perché si possano vivere le cose. C'è un grande interesse. E questa cosa che tu mi hai lanciato così come se fosse una cosa ovvia, dovrebbe essere una cosa ovvia, però in realtà non è così. In realtà sai, molto spesso questo tipo di iniziative virtuose sono affidate alla buona volontà del singolo, del singolo istituto. Un'altra delle cose che ho riscontrato è che c'è un'enorme disparità tra istituti penali virtuosi, per quanto può essere virtuoso un istituto penale, e istituti penali che non lo sono. Non dico che istituti penali dove ci siano persone che fanno male il loro lavoro, ma c'è molta differenza tra chi fa il proprio lavoro, fa quello che deve fare, timbra il cartellino e poi se ne va a casa, e tra i luoghi dove invece c'è chi butta il cuore oltre l'ostacolo, si impegna oltre l'orario, si impegna oltre le proprie mansioni, molto spesso. Sai, c'è la stessa differenza che c'è per esempio in una scuola, quando da piccolo ci dicevano no, sei stato fortunato, sei stata fortunata, sei capitato in una buona scuola, in una scuola con dei buoni insegnanti, e crescendo ci siamo resi conto che in effetti faceva molta differenza avere dei buoni insegnanti, ecco, pensa in carcere, pensa in carcere che differenza enorme, abissale può fare. Questa è una cosa che ti sento di dire senza alcun dubbio, c'è estrema disparità, ora senza parlare insomma degli uni e degli altri, però c'è estrema disparità tra un istituto e l'altro a seconda delle persone che ci sto detenuti, e non sto parlando dei detenuti, ma sto parlando degli adulti, del personale, dei professionisti. Sì, sì, poi ci torniamo agli adulti. L'altra cosa che mi ha molto colpito è questo atteggiamento che tu hai, che mi sono mia l'antica, ogni volta tu cerchi di fare, di fare i tuoi laboratori, no? E c'è sempre il dubbio che questa cosa non ti possa fare. questa necessità di essere contenti, di essere un po' anche, di avere una certa subitanza, in modo, e tu ti domandi, se io lo faccio tradisco me stesso, però se non lo faccio in qualche modo penalizzare, o ad avere la parte penalizzata, sarebbe le ragazze. Tiri fuori altri due punti molto importanti. E allora, la prima cosa che mi viene da dirti è che francamente è un qualcosa a cui non avevo pensato prima di entrarci e prima di cominciare a lavorare in carcere, che è che le sbarre funzionano in entrambi i sensi, cioè funzionano sia nel tenere i ragazzi fuori dal mondo, ma anche nel tenere il mondo fuori dai ragazzi. Dal carcere ovviamente è difficile uscire perché è un carcere, ma in carcere è anche difficile entrare. E questo è un qualcosa che non tutti sanno e non tutti se ne rendono conto, però sì, c'è un'endemica difficoltà nell'entrare in carcere, è un qualcosa di cui bisogna sempre tenere conto. Per quanto riguarda invece la seconda parte della tua domanda, anche quello è un qualcosa su cui mi sono trovato a riflettere facendola e vivendola questa realtà, e cioè in carcere qualsiasi conflitto viene pagato dai ragazzi, viene pagato dai detenuti. Se io litigo con un assistente, con una guardia carceraria, ne pagano le conseguenze i detenuti. Quindi io molto spesso mi mordo la lingua, ci sono anche un paio di episodi nel libro pure abbastanza pesanti, in cui io mi mordo la lingua perché so che se dico qualcosa va discapito dai ragazzi. e la coerenza non è bella quando non sei tu in prima persona a pagarne le conseguenze. La coerenza non è tale quando è gratis, quando sono i più deboli a pagarla. Sì, però ci sono dei rapporti di forza che sono veramente completamente talati. Tu non sei rabbioso nel raccontarli, sei molto lucido e anche molto comprensivo con questo testo, è molto antitritico anche nel muoversi, quindi auto-amico. Però la percezione della violenza, di questa violenza che lì profonda, pur per violenza a loro dentro, è fortissima, è quasi commuove per questo aspetto. Vorresti fare qualcosa, non è meglio il fatto che tu invetti alla fine dei cuori a prendersi il carico in qualche modo di una parte. Se volete fare qualcosa, trovate a farlo. Andate da questa parte, se volete in carcere, trovate anche, o addirittura ragazzi che avete lo competente. Ma entrate nel carcere. Io ho sentito questo richiamo. Entrate in questi luoghi perché hanno bisogno di essere almeno aperti dal mondo all'ingresso. Ma è un po' di sicurità dal tuo punto di vista? Cioè esiste un modo, ci sarebbe qualcosa di completo che si può fare, al di là dell'esperienza individuale e dell'esperienza individuale? No, certo, non tutti possiamo andare a fare esperienze individuali in carcere, ci mancherebbe altro, però tutti prima di tutto possiamo informarci, tutti prima di tutto possiamo renderci conto che sono realtà che esistono, possiamo informarci su come funzionano, possiamo informarci per esempio su quante persone si suicidano in carcere tutti gli anni. Le carceri non sono dei posti in mezzo al mare, lontani, migliaia di crisi, fanno parte delle nostre città, del nostro tessuto sociale e questa cosa, permettimi di dire, è ancora più pressante quando si parla di ragazzi minorenni o comunque molto giovani, perché un ragazzo di quell'età, che ha fatto un crimine anche grave per carità, alla fine della pena, è recuperato o non è recuperato? E se non è recuperato, che facciamo? Che responsabilità abbiamo? Cioè se noi pensiamo che un ragazzo adolescente sia perduto, ormai è perduto di essere perduto, tanto vale che gli spariamo in testa, perché tanto è perduto. Se noi diciamo no, non è così, abbiamo un impegno nei confronti di questo ragazzo, proprio come società, e cavolo, allora a questo impegno dobbiamo dare seguito in qualche modo, no? Cioè sono domande che prima di viverle sembrano teoriche, l'articolo 27 della Costituzione, no? Cioè sembra qualcosa scritto ai tempi di mio nonno, no? E invece tu dici, cavolo, queste cose sono vere, sono reali, tante teorie che sembrano astratte, un paio ne parlo pure nel mio libro, pur non essendo io un grande teorico, che sembrano astratte, quando poi tu le vedi sulla pelle dei ragazzi e sono, insomma, dei ragazzini con cui condividi tante ore pure simpatiche, dici, cavolo, eh? Wow, questa cosa ci riguarda tutti, io ho una vecchia laurea in filosofia del diritto, che mi sembrava una cosa astratta, e mi sono reso conto che forse così astratta non era. No, direi che ti serve, ti serve anche molto, e in questo è l'inconsistente che si respirano anche ragionamenti di altri, oltre a quelli che sono pezzi. E invece, parlami un po' di la tua musica con i ragazzi, come ti accogliono? Cosa sanno di te? Cosa vogliono? E sono curiosi? E allora, la musica con i ragazzi è una bomba, perché a loro non devi spiegare niente, perché loro sono nativi del rap, il rap c'è sempre stato nella loro vita, loro sono nati e c'era già il rap. Per cui, quando io entro in un'aula e gli dico, ragazzi, oggi facciamo quattro barri a testa, oggi facciamo freestyle, mi siedo dieci minuti e c'è te al lavoro, perché loro sanno bene di che cosa sto parlando, non gli devo spiegare niente, quindi è bello che è plug and play, perché lo strumento ha un'immediatezza pazzesca, non mi viene in mente nessun altro strumento, veramente al giorno d'oggi, che possa avere questo tipo di immediatezza. Sai, qualsiasi altro genere musicale, tu dovresti saper suonare uno strumento, saper leggere la musica, dover essere intonato, avere attrezza, il rap no, il rap ti serve il cervello e la bocca, e vai, e questa è una grandissima arma a mia disposizione. Per quanto riguarda, diciamo, più specificamente la tua domanda, alcuni di loro mi conoscono, altri no. Per me non è un problema, anzi, forse ti dirò che preferisco quando non mi conoscono, cioè preferisco avere una tabula rasa da cui partire, preferisco che loro non abbiano la mitologia del rapper, preferisco che loro sappiano che io sono un tizio che si siede con loro e fa questa roba. Sono curioso. Oh, è venuto a trovarci, abbiamo un ospite speciale. Sì, ne abbiamo, quando loro sono felici si fanno vedere, e quindi si vede che la tua voce mi piace. Ascolta invece, che mitologie mi hanno musicali loro? Che musica ascoltano? Allora, loro ascoltano due generi musicali, ascoltano il rap e il neomelodico. La musica rap e la musica neomelodica. E un'altra riflessione che ho fatto, mi sono reso conto di quanto questi due generi, paradossalmente, si assomiglino molto. Se c'è una sparatoria in un quartiere e muore un ragazzo di vent'anni in questa sparatoria, ne può uscire una canzone rap e ne può uscire una canzone neomelodica. E entrambe sono credibili allo stesso modo. Entrambe poi hanno lo stesso ruolo folk, mi vorrebbe dire, lo stesso ruolo di vicinanza al territorio, di vicinanza alle persone, lo stesso ruolo molto spesso di musica urbana, sebbene di realtà urbane differenti. Molto spesso ci sono anche degli incontri pazzeschi tra il rap e la musica neomelodica. Certo, io preferisco il rap. Lo immagino. Però il neomelodico ci sta bene, hai ragione. Io ne conosco diversi, sono in grandi generi di quell'età che racconti tu. Ascolta, un'altra cosa che... veramente tu assegni al volontariato un ruolo importante, meritorio, ed è così via. Però aggiungi, sarebbe bene che a entrare in carcere siano le persone informate adeguatamente. E quindi quegli offesi si può non mettere e tutto si è in mano al volontariato. Un investimento. Tanto più, ti racconto un'altra cosa che non sapevo, per ognuno di questi ragazzi quanti studenti vengono cadati allo scato? Carina? Sì, sette. Sette. Per ogni ragazzo detenuto ci sono sette... Ogni ragazzo costa 15.000-20.000 euro al mese allo Stato Italiano. Quindi a noi, insomma. E a loro stessi, del resto. Scusa, penso a quella cifra che cosa si potrebbe fare. Appunto, stavo per farti la domanda. Con 15-20.000 euro al mese solo su un ragazzino, che cosa potresti farci? Potresti farlo studiare, potresti farlo lavorare, pagando sia lui che l'azienda che lo fa lavorare. E sai, in realtà mi viene più conosco, studio e capisco l'istituzione del carcere minorile, più mi viene difficile giustificarne l'esistenza. Detto proprio così, brutalmente. Io penso che tra 50 anni ci guarderemo indietro e diremo, ma veramente noi nel 2021 chiudevamo i ragazzini di 14 anni dietro le sbarre? Cioè, ci sembrerà un'istituzione giuridica così anacronistica come adesso dice il matrimonio d'onore, il matrimonio riparatore, il delitto d'onore, ma veramente quella roba era legale? Eppure sì, all'epoca dei nostri genitori insomma quella roba era legale. E io penso che il carcere minorile sia altrettanto anacronistico. Forse il carcere in generale, però io parlo di quello che è stato fatto. Del resto ci sono illustri giuristi che hanno detto la stessa cosa in modo più autorevole. però è una realtà che veramente più vivo e meno capisco. Sì, sì, io la penso esattamente come te e mi domando veramente come si possa in un paese civile ritenere di recuperare, rientrare, rimettere al mondo, far rinascere una creatura così piccola per quanto abbia potuto sbagliare dopo quello di vita. Un altro pensiero che hai è tanto generoso che te l'hai anche nel personale delle parti e dici che molte delle loro sofferenze, depressioni, tristezze, tu le hai potute anche constatare il proprio che è tentativo. Quindi c'è anche una tristezza profonda in chi è dentro. Quindi in chi dovrebbe prendersi carico, visto per mettere ancora un po' di benzina sul fuoco, si dovrebbe prendersi carico di questi ragazzi qui. Che rapporto avete? Guarda, anche quello è un punto scottante, è un punto molto molto scottante quello di cui parli. Perché il carcere è un luogo disegnato, pensato per essere brutto. Altrimenti si chiamava vacanza, si chiamava colonia e stima, non si chiamava carcere. Il brutto del carcere come dire trasuda, tracima su tutte le persone che ci sono dentro. I casi di suicidio tra gli agenti di polizia penitenziaria sono drammaticamente gravi, drammaticamente. Basta andare sul sito della polizia penitenziaria, guardate come parlano, in che termini parlano del suicidio. È qualcosa di tremendo, di drammatico, anche perché c'è anche uno stigma per cui molto spesso la gente non ricorre all'aiuto dello psicologo, perché ha paura di passare per pazzo, ha paura di perdere il lavoro e questa è una cosa ancora più grave. Certo, non così tanti come sono i suicidi tra i detenuti, però ci sono parecchi, parecchi casi, ci sono statisticamente vari casi all'anno di agenti di polizia penitenziaria che si suicidano e anche questo è un fenomeno che va analizzato. Poi chiaramente io sono uno che va là a fare rap, per carità, non è il mio lavoro fare specificamente questo, però l'opinione pubblica non dovrebbe saperlo che succedono queste cose, certo che dovrebbe saperlo. Certo che dovrebbe saperlo. Sì, ma noi sai che abbiamo questa voglia di creare qualcosa di diverso da noi, di dedicare i territori e altro da noi non ci riguarda, per cui siccome lo dobbiamo dimenticare. Saluto un amico, sei bellissimo. Senti, intanto scrive Oreste, dice bravo Kento, molto centrato e preciso, complimenti, operatori come te fanno la differenza. Ho lavorato in carcere e altre con ragazze e situazioni limite. Oreste, ti piacerà anche il libro non sono certa. Senti, alla fine del libro sembra per tornare alla musica, tu fai un dono al lettore e metti questo mixtape barre che adesso faccio vedere dove io che non sono una grande tecnologica però ce l'ho fatta subito, ho messo il mio iphone sopra, l'ho fotografato e ho sentito tutta la playlist bellissima, mi piace molto, che è dedicata a questa esperienza, ci sono due canzoni poi soprattutto dove tu sei molto sul pezzo e queste barre ripeti che sono tante cose. Ecco, spiegami un po' come nascono queste canzoni. Ma sai che a me Barre è un libro che parla di musica fondamentalmente, parla di rap, a me non piaceva che un libro che parla di musica fosse senza musica, no, non volevo che si fermasse soltanto alla parola letta, alla parola scritta, volevo che, come dire, bucare questa quarta parete e ci sono riuscito grazie ai magici mezzi della tecnologia appunto col QR code, quindi appunto inquadrandolo con qualsiasi smartphone o tablet si va su tutte le piattaforme dove si possono ascoltare ovviamente gratuitamente insomma tutte tutte queste canzoni e siccome questo che ho raccontato è un viaggio in musica mi piaceva anche raccontarlo in musica, poi alla fine sono un rapper come prima cosa, è qualche anno che faccio lo scrittore però insomma nasce anche da quello. Il rapper scrivo, tu hai sempre scritto quindi in fondo è una sorta di presa ma per la tua musicalità anche in questo libro quindi si sente che le parole transitano da un corpo musicale e senti i ragazzi l'hanno letto questo libro? L'hai toccato? E allora i ragazzi lo hanno letto non tutti non in tutti gli IPM ho cercato di farlo entrare con circospezione perché il libro per fortuna e purtroppo sta andando estremamente bene dico purtroppo dico anche purtroppo perché nel libro ovviamente io insomma assumo anche delle posizioni critiche non ho scritto il libro cuore ho scritto un libro dove se c'è da denunciare qualcosa che non va io lo dico e ci sono ci sono ci sono delle cose che non vanno e quindi visto che è una realtà come dire molto suscettibile alle critiche cerco di farlo arrivare ai ragazzi in maniera come dire circospetta non so che cosa succederà dalla settimana prossima perché questa domenica sono sul TG1 quindi da lunedì vedremo un po' come è messo il mio futuro però se posso tranquillizzarti e spero di aver ragione non sei mai stato né sgarbato né oppositivo hai sempre detto le cose che non andavano in una maniera adeguata io credo che non posso ritroverarti di aver detto cose che da in qualche maniera noi non conoscessimo l'hai fatto in un altro modo questo invece è molto benitorio per cui spero e se dovesse succedere ce lo fai sapere ce li dedichiamo tutti spero che tu possa aumentare i tuoi ingressi nei cattoli minori e che ragazzi possano parlarne se li possiedono se li insieme poi se credo lo succederà è verissimo Elisabetta spero vivamente che tu abbia ragione eh sì auguriamo ascolta un'ultima domanda sono le cinquanta ma forse riesco a fartene ancora un paio cantate quindi in carcere cantate sì e e cantiamo registriamo abbiamo fatto dei videoclip le canzoni sono su youtube ma cioè i ragazzi non vogliono la teoria i ragazzi vogliono vogliono la pratica quindi vogliono le canzoni insieme molti mi chiedono aiuto per scrivere le canzoni d'amore perché sai è una te la racconto perché è divertente è una scena che succede sempre matematicamente in ogni carcere che vado c'è un ragazzo lo vedi sempre perché si dà tutta l'aria da duro da criminali e sta di lato io lo vedo che guarda e non parla quando vedo uno che guarda e non parla dico ecco ok è lui lo vedi dopo un po' quando sono usciti tutti che si avvicina e mi fa senti ti devo dire con la faccia abbassata mi fa ti devo dire cosa e la cosa è sempre c'è la mia fidanzata che mi aspetta fuori mi aiuti a scrivere una canzone d'amore per lei e io dico sì subito subito perché sono contento perché insomma questa fidanzata che sta fuori mi dà modo come dire di lavorare bene approfonditamente con questi ragazzi ma qual è la dinamica che loro i ragazzi purtroppo ovviamente sono chiusi la ragazza che sta fuori fidanzata innamorata che lo sappia che sono fidanzati non è quello il punto il ragazzo che sta dentro dice eh quella è fuori chissà che fa chissà se si vede con qualcun altro quindi l'obiettivo della canzone è dire oh occhio vedi che io sono qua rinchiuso che ti pensa tu non fai le stupidaggine lì fuori che è una cosa di una tenerezza incredibile però anche ha un pizzico di drammaticità nel cioè è amara questa cosa e quindi io mi siedo con questo ragazzo a parte gli dico ok io ti aiuto a scrivere la canzone però la canzone la devi scrivere tu deve essere tua non mia dimmi qualcosa di questa ragazza e loro mi dicono è bellissima dico ok è bellissima ma che vuol dire cosa ti fa pensare quando vi siete incontrati che tempo c'era quando vi siete incontrati che cosa vuoi fare con lei tra cinque anni e lì pum vedi che si aprono le cataratta no vedi che per la prima volta molto spesso per la prima volta si liberano liberano la propria creatività perché riescono a come dire costruire il ponte tra l'esperienza personale l'amore e la forma espressiva il rap quando riescono a fare questo passaggio da lì si apre un mondo li invidio molto sinceramente quando si rendono conto di questa cosa perché vedi una luce che è epifanica nei loro occhi e in qualche modo gli racconti anche il tuo modo di guardare le cose gli dai anche una traccia su come possono riguardare le cose che hanno intorno con altri occhi che a volte basta una scintilla e poi ti arrivi qui e la ripercorri anche in altre cose della vita quindi sembra anche un buon esempio a qualcuno lo ritrovi fuori vieni a cercare sì fortunatamente sì sì mi capita abbastanza spesso che mi scrivono diciamo ma ti ricordi di me è grande io mi verrebbe a dire certo che mi ricordo di te con qualcuno mi è capitato di passarmi anche il microfono a delle serate fai chiamarli e farli farli salire con me con uno in particolare sto per fare una collaborazione però sai a me non interessa tanto l'uno su cento che diventa rapper che spacca che vola con le sue a me interessano i 99 che magari non diventeranno mai rapper non sono nemmeno fenomenali a scrivere però per la prima volta con me hanno poggiato una penna sul foglio e si sono detti ok e adesso che diavolo scrivo e adesso da questo caos da questo gomitolo che ho dentro cosa tiro fuori come faccio ad acchiappare il filo e seguirlo e onestamente ho la presunzione di credere che questa cosa gli serva nella vita forse gli serve anche a capire di più quello che gli sta succedendo perché di ragazzi che mi hai perso di nuovo ci siamo no adesso ti ho recuperato ti ho recuperato vai ok perfetto perché sai quelli che diventano rapper ci sono ma ci sono molti di più che fanno ovviamente altre scelte di vita perché non possiamo fare tutti i rapper però la soddisfazione di avergli messo una penna in mano onestamente me la prendo sì sei bravo senti io invito tutti quelli che ci hanno seguito e quelli che ci riguarderanno inregistrata su youtube e su studio della passione per il delitto ad acquistare comprare leggere emozionarsi francesco canto carlo barre il sottotitolo è il rap sogni e segreti in un carcere minorile minimo pazzo è l'editore è proprio un bel libro sono molto contenta che tu l'abbia scritta è importante vai avanti a lavorare con i ragazzi e se hai bisogno di un po' di persone che tu devono si sostenere per questo motivo puoi contare su di noi grazie francesco tempo buona musica grazie infinite a voi è stato un piacere e onestamente la cosa che vorrei di cuore sarebbe incontrarci di persona appena sarà possibile darci un abbraccio succederà succederà sicuramente buona vita buona musica grazie mille a voi ciao grazie